Voglio 10.000 like per la streaming di 10 ore che stiamo facendo oggi, li voglio adesso, vi manderò qui dalla streaming e voi direte sì sono qui dalla streaming step Bene ragazzi, questo è Epni e bentornato in questo nuovo video di annuncio streaming Non appena ragazzi vedrete questo video vorrà dire che è iniziata la streaming di 10 ore che si terrà oggi, venerdì 29 28 novembre Sul mio canale di Twitch TV, se molti di voi probabilmente non seguono la pagina Facebook non sapranno neanche che questa streaming era programmata diciamo da quasi una settimana Doveva essere la 24 ore, però molti di voi hanno detto step, visto che ancora andiamo tutti a scuola perché non ci sono vacanze, non ci sono conti Tranne quello di 6, 7, 8 dicembre però c'è il videogame show, perché non fai una streaming un pochino più corta e poi la 24 ore la spostiamo a dicembre per il periodo natalizio? Mi è sembrata un'ottima idea, questa che è venuta a voi, comunque ho condiviso e ho detto allora facciamo così, ora facciamo una streaming da 10 ore, nella prima metà di dicembre Rifacciamo un'altra bella lunga in più a quelle tipiche di 3-4 ore e poi nelle vacanze natalizie 24 ore di streaming Quindi ragazzi che state ancora guardando questo video, venite nella streaming Io aspetto eh, ma finchè non venite io sto qui Io me ne sto qua, niente streaming per voi Dai seriamente vai a vedere la streaming invece di stare qui Te lo chiedo col cuore, guarda col cuore Vabbè dai allora già che sei qui posso dirti che alle 15 esce un video di Minecraft la serie E alle 18 un altro video di Minecraft la serie Siete contenti? Siete contenti? Voglio 10.000 like per la streaming di 10 ore che stiamo facendo oggi Li voglio adesso, vi manderò qui dalla streaming e voi direte sì sono qui dalla streaming step E raggiungeremo 10.000 mi piace a questo video, giusto per non fargli avere un senso Ma d'altronde perché le cose devono avere un senso? Non devono avere senso le cose Ok probabilmente qualcuno sta venendo a prendermi a casa, la polizia O lo psichiatra Ragazzi seriamente la streaming non è qui, è su Twitch, vi sbregate a venire? Vi sto aspettando Allora io me ne torno a fare la streaming Se volete venire con me il link è in descrizione Io vi saluto, qua da sempre è tutto Ciao